Certo, chi combatte può morire. Chi fugge resta vivo. Almeno per un po'. Sono pronto a correre questo rischio. Se non entro subito in azione, il genere umano cadrà sotto la tirannia del generale delle tenebre. Se voglio che l'umanità abbia un futuro, devo combattere. Anche a costo di cadere insieme a Mazinger Z. Senza libertà cosa farete? Sono pronto anche a morire. Se il mio sacrificio servirà a salvare la terra. E visto che insieme ce l'abbiamo fatta. Grazie. Sei pronto per l'ultimo round? Adesso guiderò Mazinger. Questa macchina può diventare sistematica. Idromatica. Ultramatica. Può diventare un pulmine alla primavera. Sono Claudio Sorrentino. Forse ti ricordo.